È stata una situazione abbastanza fantoziana perché mentre noi viaggiavamo in queste condizioni venivamo rassicurati dalla voce metallica che lasciava il suo messaggio che Trenitalia e Regione Toscana avevano condiviso delle modalità di gestione del Covid. Nello stesso tempo ci dicevano di rispettare le misure di sicurezza e nello stesso tempo a Ponticino il capo ci annunciava che le persone che rimanevano in piedi dovevano scendere dal treno perché la capienza massima era dell'80%, quindi tutti i posti a sedere occupati, non un posto in piedi. Il treno è troppo affollato e così alcuni pendolari sono stati fatti scendere qui in aperta campagna. Ci troviamo alla stazione di Ponticino, l'ultima prima di arrivare ad Arezzo. È successo ieri mattina sul treno regionale partito da Santa Maria Novella alle 6.24 e diretto verso il capoluogo. Questo treno è un treno già critico di suo perché raccoglie tutti i ragazzi e gli studenti da Firenze praticamente facendo anche le stazioni più piccole fino ad Arezzo, quindi è già molto frequentato. Con l'arrivo anche dei passeggeri del treno precedente in ritardo, chiaramente la situazione è diventata tragica. C'erano ragazzi, tanti ragazzi tutti in piedi a riempire i corridoi ma anche seduti uno sopra l'altro. Decine di passeggeri, praticamente tutti quelli che erano rimasti in piedi, sono stati così lasciati a terra in attesa del treno successivo con inevitabili disagi e gravi ritardi. Non è corretto, soprattutto perché erano ragazzi in piedi e quindi avrebbero fatto anche tardi a scuola, eccetera. Con tutti i disagi che questo può comportare e anche i pericoli.